Parliamo di Green Pass, il certificato sanitario sembra essere sempre più una realtà, un documento che viene presentato come la soluzione per far ripartire il turismo, ma che nasconde tuttavia diverse criticità che potrebbero essere in contrasto con alcune libertà garantite a livello costituzionale. Sentiamo il servizio. Si è svolta la votazione al Parlamento europeo per l'approvazione della procedura veloce sull'adozione del Digital Green Certificate e questa proposta arrivata dalla Commissione europea ha ricevuto l'approvazione da parte della maggioranza del Parlamento. Con 468 voti favorevoli e 203 contrari e 16 astensioni, gli eurodeputati hanno così sostenuto l'utilizzo della procedura d'urgenza che consente un più rapido controllo parlamentare delle proposte della Commissione. L'obiettivo di questa procedura speciale è di introdurre il certificato digitale e sanitario in maniera rapida, possibilmente già entro l'estate. Da un punto di vista politico, l'aspetto più curioso che emerge da questa votazione è la spaccatura all'interno del gruppo parlamentare Identità e Democrazia, che comprende al suo interno la Lega, il Rassemblement National Francese, l'AfD tedesco e tutti gli altri partiti cosiddetti euroscettici. E la Lega, il primo partito di questo gruppo con 27 parlamentari, ha votato a favore del Digital Green Certificate, mentre tutti gli altri componenti di Identità e Democrazia hanno votato nel senso opposto. Voglio spiegare subito, visto che c'è un alto rischio di fraintendimenti, di incomprensioni e anche un po' di disinformazione come al solito sui mass media, riguardo quello che è stato approvato oggi il Parlamento europeo con il voto favorevole anche del nostro gruppo, della nostra delegazione, cioè il Green Pass. Si è votato soltanto la possibilità di procedere con un iter legislativo accelerato rispetto a questo obiettivo, rispetto alla proposta della Commissione europea, per riuscire ad avere questo strumento in tempo utile, più ravvicinato possibile in vista della pianificazione anche delle vacanze estive e quindi della ripresa del settore turistico. Un segnale di rottura che può essere interpretato come un progressivo allontanamento della Lega, da questo gruppo, per avvicinarsi sempre di più al Partito Popolare europeo che per questo certificato sanitario ha votato interamente a favore. A rimanere fermamente contrari al nuovo documento sono i verdi, molto critici già nelle dichiarazioni di voto e che hanno espresso questa contrarietà in una votazione compatta per il no. E cosa succede adesso? Inizierà una negoziazione con il Consiglio europeo per adottare eventuali nuovi emendamenti al progetto, per arrivare poi a una nuova votazione al Parlamento europeo prevista per il prossimo mese. Infine il tutto dovrà passare al vaglio dei Parlamenti nazionali. Restano tuttavia diverse perplessità. Il Digital Green Certificate darà infatti il via libera a tre categorie specifiche di persone. Chi si sarà sottoposto al vaccino, chi risulterà guarito dal Covid e infine chi potrà esibire un tampone negativo entro un lasso di tempo prestabilito. Occorre quindi sottolineare come questo documento non escluda una disparità di trattamento tra i vaccinati e i non vaccinati. Per i primi infatti viaggiare tornerà ad essere a tutti gli effetti un'attività possibile, come era in epoca prepandemica. Per i non vaccinati che non sono guariti dal Covid invece resterà valida la burocrazia dei tamponi, a cui si dovranno sottoporre in partenza e all'arrivo e in un numero di occasioni che varia a seconda delle indicazioni delle sanità nazionali. Alla luce di questo appare chiaro come la condizione di vaccinato appaia privilegiata per i viaggiatori che saranno quindi psicologicamente spinti a sottoporsi al vaccino pur di non passare attraverso le forche caudine di tamponi ed eventuali quarantene. E la libertà di scelta garantita a livello costituzionale verrebbe così indirizzata in un senso ben preciso. Infine occorre segnalare come, secondo le stesse istituzioni sanitarie, ad oggi i vaccini contro il Covid non rappresentano una garanzia di non contagiosità per chi vi si è sottoposto, come confermato dalla stessa AIFA. Ancora non sappiamo in maniera definitiva se la vaccinazione impedisce solo la manifestazione della malattia o anche il trasmettersi dell'infezione. Ecco perché essere vaccinati non conferisce un certificato di libertà. Ma allora se è la stessa AIFA a dirci che il vaccino non è certificato di libertà? Che bisogno c'è di introdurre un certificato sanitario europeo?